ciao ragazzi oggi ci troviamo nello splendido porto di santa teresa gallura e vi voglio presentare le vertical ball ora vi faccio vedere come l'armo per realizzare il nostro assist ci serviranno i nostri ami della jatsui gli hhs 5 misura numero 5 e il black wolf 250 libbre eccoci qua infiliamo il nostro braid all'interno dell'occhiello del nostro amo creiamo una piccola giolina passiamo dentro una due tre volte andiamo a stringere bene prima prima di arrivare in fondo e voilà e serviamo il nostro ecco precediamo l'eccedenza e calcoliamo una quarantina di centimetri in base agli inneschi che noi andremo adottare perché in base all'eschi che abbiamo ovviamente può essere più o meno lungo detto questo ri andiamo sempre a infilare il nostro braid all'interno dell'occhiello creiamo sempre la nostra vasolina praticamente andiamo a ripeterlo l'operazione che abbiamo appena fatto così facendo andiamo a stringere e il gioco è fatto questo è il nostro assist ora prendiamo la nostra vertical ball andiamo a infilare all'interno dell'asolina sotto dell'occhiello sotto l'amo il nostro apparato e andiamo a stringere questo tipo di innesco ci consente in base alla lunghezza dell'esca di avere una modalità una modalità di allungamento cosa vuol dire se noi ora abbiamo un calamaro ad esempio da 20 30 centimetri non facciamo altro che allungare un lembo rispetto all'altro e quindi potremo mettere il nostro ovviamente la punta del nostro calamaro qua in mezzo alla testa e tentacoli questo amo e a metà corpo questo altro questo è l'assist per le vertical ball ora vi faccio vedere che tipo di attrezzatura utilizzo per pescare questa è proprio una canna studiata dalla falcon per questo tipo di tecnica infatti si chiama come potete vedere vertical ball questa l'azione 200 300 in accoppiato abbiamo l'oxian o x 5 l mulinellino dalle grandi dote di robustezza e capienza filo cosa molto importante perché in questo mulinello riesco a mettere 500 metri di striker multicolor 50 libri ok desk ve le ho fatte vedere le canne pure vi do un paio di consigli per questo tipo di tecnica quando pescate con le seppie vi consiglio di tenere la vostra vertical ball adagiata sul fondo e magari ogni 23 minuti alzarla di due o tre metri per in maniera di fare una bella sbandierata e se per creare un po di movimento e se qualche predatore nei paraggi così la riesce a vedere e riesce avvicinarsi se invece utilizzate i calamari vi consiglio di tenere l'apparato una cinquantina di centimetri staccato dal fondo perché è molto molto più proficua in questo tipo di modo perché se mandiamo il calamaro attaccato al fondo abbiamo il problema che i piccoli gruffolatori tutti i pesciolini che ci sono sul fondo vadano attaccare la nostra esca cosa molto importante da non dimenticare questo tipo di tecnica si fare con qualsiasi tipo di esca dal sugherello allo sgombro al calamaro alla seppia ovviamente anche con i morti però i morti è molto meglio averle super freschi diciamo perché il potere attrattivo è molto più alto basta penso di avervi detto tutto se le volete provare in pesca io vi invito a venire nel mio chart di pesca santa teresa di gallura e un saluto dal matto e ciao grazie